La FIAT Si hai ragione, è un ricatto bello e buono, visto che la FIAT ha beneficiato dei soldi pubblici italiani, il minimo sarebbe reinvestire in Italia senza chiedere di più. E io cosa faccio? Per esempio ho votato no al referendum della FIAT e quando avrai la patente, se sarò vivo e avrò i soldi, ti comprerò una bella BGV. La FIAT 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 La FIAT